Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Finalmente una gioia in questa quarantena perché è arrivata l'illumicrate di marzo. È arrivato questa mattina e non vedo l'ora di aprire questa box di marzo perché il libro credo di saperlo e non mi intriga particolarmente ma gli oggetti che ci sono all'interno non vedo l'ora di vederli perché alcuni li so, uno solamente, però vale tutta la box e quindi non vedo l'ora di aprirla. Ringrazio sempre l'illumicrate che mi invia queste box bellissime da mostrarvi e niente, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Non ho preso le forbici, quindi vado a prendere le forbici e cominciamo subito ad aprire. Sono molto, molto, molto curioso. Il tema tra l'altro è bellissimo. Il mese di marzo è veramente un tema bellissimo, come sempre tra l'altro, però quello di marzo mi intriga particolarmente quindi sono davvero, 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 davvero curioso di aprire. Andiamo. Per me ogni volta aprire queste box è tipo Natale, cioè è qualcosa di bellissimo. Abbiamo aperto. Ta-dan! Bellissimo. È veramente bellissimo il tema di marzo. Ed è Worlds Collide e ha questa grafica, come sempre, meravigliosa, ma non so per quale motivo ma quando la postarono su Instagram me ne innamorai follemente quindi sono molto curioso di vedere tutti gli oggettini. Quello che desiro tanto già lo vedo, non so se voi lo state vedendo ma io già lo vedo e non vedo l'ora di vederlo. Questo lo possiamo perché, come sempre, era Spoiled Card e quindi la riprendiamo alla fine. Tra l'altro il tema del mese di aprile, Squad Goals, mi intriga da morire. Adesso concentriamoci sulla box di marzo. Quindi questo lo possiamo e lo riprendiamo alla fine, come sempre. E tra l'altro quando vi farò vedere gli oggetti comunque farò i colosappi in modo da poterli vedere meglio. Allora, da che cosa... No, vabbè, io sto vedendo cose. Qua sotto ci sono cose. Cominciamo da una candela. Schwista, credo. Library Books and Monster Dreams. Credo che sia ispirata a... Oh mio Dio, sì, al sognatore decisamente. E sa di... Ecco, adesso cominciamo a usare le candele e io non riuscirò a cavarne un buco, un ragno dal buco. Sì. Non so di che cosa sa. Comunque, questa è la candela. Adesso la rivediamo. Il contenitore è questo bronzo bellissimo e all'interno ci sono questi brillantini dorati e la candela è blu. Quindi ricorda tantissimo il sognatore. E il profumo è buonissimo, mi piace un sacco. È molto fresco, ma allo stesso tempo c'è qualche tipo di fiore. Veramente mi ricorda un profumo in particolare, ma non riesco a capire cosa. Non ho veramente idea. Vediamo poi se ci sono comunque indicazioni sulle profumazioni, non ho idea. Comunque questo è il primo gadget e non vedo l'ora di accenderla. Non vedo l'ora di accenderla. Andiamo avanti. E no, vabbè, c'è la coins del mese. Sono ritornate, io sono molto felice. Mi erano molto mancate. Quella di febbraio, se non sbaglio, non c'era. E questo è chiaramente Cartan di The Cruel Prince. Credo. Cioè, sì, penso di sì. Mi ricorda molto lui. Molto bella. Io adoro queste coins che sono piccolissime. Sostanzialmente non ci faccio niente. Però mi piacciono un sacco. E poi gli artwork di Monolite sono bellissimi. Come sempre. Poi ve la faccio vedere meglio nel close-up. E questa veramente non riesco a farvela vedere. Una Micafartis qualunque. Apriamo l'oggetto che volevo aprire perché è qui e sta soprattutto. E quindi andiamo a vedere. Anzi no, prima c'è un portachiavi. Quindi andiamo a vedere questo. Un portachiavi che è ispirato, ma proprio, cioè, manco a dirlo, a Alice in Wonderland. È in plastica e c'è questa... Cos'è questo? Ok. Non riuscivo a capire. Pensavo che fosse rovinato. Invece no. C'è una plastichina sopra per proteggerlo. Ed è ispirato, appunto, a Alice nel Paese delle Meraviglie. C'è, appunto, la pozioncina con scritto Drink Me, l'orologio e la rosa. Molto, molto carina. Quindi lo attaccheremo anche questo da qualche parte. Mi piace un sacco l'artwork, comunque. Quindi sì. Alice nel Paese delle Meraviglie. No, oggi mi è presa a fare la makeup artist. Va bene. Ora è arrivato il momento di aprire l'oggetto che desideravo vedere dal inizio di questo unboxing. Tra l'altro sotto ci sono cose oro e io sono tipo una gazzaladra quando vedo cose brilluccicanti che brillano. E sono curioso. Credo che sia una fan art, comunque. E andiamo a vedere una nuova tazza, ragazzi. Sì. Anche nella box di dicembre, se non sbaglio, credo di sì, c'era una tazza di questo genere. È pregata da questa artista che si chiama Rosie Turn 88, che è bravissima. Io la stimo veramente tantissimo perché fa degli artwork inimmaginabili. Comunque quella di dicembre era ispirata a Akotar, in modo particolare a Akotar Mist and Fury. Ed era meravigliosa. Questa dovrebbe essere ispirata a Throne of Glass. Quindi capirete. Poi anche le confezioni di queste tazze sono sempre bellissime. Questa si chiama Burning Crowns. Vedo l'ora di vedere l'artwork. E poi dal verde mi rimanda molto a Air of Fire. Quindi credo sì, anche la tazza infatti è tutta verde. E andiamo a vedere quest'artwork. Infatti ci sono Aileen e Rowan. Ve la farò vedere poi meglio nei close-up, ma è bellissima. Ci sono quest'artwork appunto che prendono tutta la tazza e girano intorno. E le adoro. Le adoro tantissimo. Mi piacciono veramente, veramente tanto. Questa appunto raffigura Aileen e Rowan. La amo. La amo follemente, non vedo l'ora di berci. E quindi sì, si aggiunge un'altra tazza. Ci voglio fare la collezione praticamente ormai. Le amo veramente tantissimo. Mi piacciono un botto. Quindi questo è l'oggetto più bello sicuramente di questa box. Per ora lo volevo vedere tantissimo. E quindi lo adoro. Va bene, continuiamo. Andiamo oltre. Allora. Qui c'è un'altra coin. E questa è Jude. Sempre di The Cruel Prince. Si sono fatti perdonare dell'assenza della coin nella box di febbraio probabilmente. Quindi abbiamo due coins questo mese. Una con Jude e una con Cardan di The Cruel Prince. Il principe crudele. Molto molto carina. Anche quest'altra mi piace un sacco. Però quella con Cardan mi piace nettamente di più. Non mi fa impazzire questa Jude. Se devo essere sincero. Comunque poi ve la faccio vedere nei plus app. E due coins per la mia felicità in questa box. Bellissimo. E adesso andiamo a vedere l'artwork e la cosa oro che vi dicevo che è questo. Wow. Molto molto bello. Sicuramente fa riferimento al libro del mese. E a questo punto mi chiedo se non ho sbagliato. E non è il libro che credo perché l'estetica di questa artwork non mi ricordo il libro che in teoria dovrebbe esserci qui. Quindi poi staremo a vedere. Ma probabilmente perché non ho mai ben letto la trama e quindi mi sbaglio io. Non lo so. Comunque staremo a vedere. È bellissima. C'è questa cornice oro. È veramente molto molto bella. E mi intriga particolarmente quest'artwork. Quindi non lo so. Andiamo a vedere il libro per capire se è quello che pensavo io o meno. Ok. La box è vuota purtroppo. E questo è il libro del mese di marzo. Che è molto piccolo tra l'altro. E andiamo a vedere. Sì, è lui. È lui quello che pensavo. E si tratta di Evan Fall di Sarah Holland. Che tra l'altro è piccolissimo. Dentro c'è questa card con appunto la copertina del libro e la lettera dell'autrice. Come sempre. Faccia catina ma va bene. Il libro è piccolissimo. Ed eccolo qua. Molto carina però l'edizione con queste pagine celesti. Dentro poi ovviamente c'è la firma dell'autrice. Che adesso andrò subito ad attaccare. Perché poi mi si perde. Ma dove la metto è enorme. Non c'entra nemmeno. Ah, qua. Attaccata la firma. E adesso andiamo a vedere l'edizione. Che si presenta così. È molto piccola. Tra l'altro proprio il libro è molto molto corto. E vediamo sotto com'è niente di particolare. È semplicemente una rigida. A questo punto mi chiedo di che cosa parli veramente questo libro. Perché da questa fanart non riesco a capire. O non è la fanart del libro. Non lo so. Andremo a vedere poi una spoiler card. La trama ci dice. Maddie Morrow sa che le Heavenfall sono più di quanto sembrano. E al di sotto sono nascoste le porte per tre antichi reami. Byron, Fjordenkiel e Solaria. Le Wings. Il destino di Maddie è lì. Radicato nella promessa della sua famiglia di proteggere la fragile alleanza di diversi mondi. Ma quando un brutale omicidio frantuma la pace e qualcuno che le ama viene accusato. Maddie deve affarsi avanti per proteggere il posto e le persone a cui tiene di più. Il suo paradiso sicuro non sarà più lo stesso. Interessante. Non avevo mai letto forse approfonditamente la trama. Ma dalla copertina, da tutto quanto non mi intrigava particolarmente. È una bella copertina però non lo so. Non mi diceva niente questo libro. Invece, boh, sembra forse interessante. Staremo a vedere. Comunque adesso passiamo alla Spoiled Card. Quindi chiariamoci un po' l'idea. In questo mese, devo dire, forse erano un po' più chiare del solito. Quindi, Spoiled Card alla mano. Partiamo subito con, appunto, la tazza. Questa quindi è la tazza ispirata a Throne of Glass di Sarah Giamassa. Che io semplicemente adoro follemente. La candela creata da Amelia's Kitchen Candles. Che però, appunto, è ispirata sia a Strange the Dreamer. Quindi il sognatore di Laini Taylor. Ma non dice la profumazione. Stanno cantando brillantini. Io non riesco. Lava. Sa di lavanda. Sa di lavanda. Comunque l'odore mi piace un sacco. E ripeto, non vedo l'ora di accenderla. Passiamo poi a questa. Che non è una fan art del libro, ovviamente. Ma è una fan art di City of Brass. Che io non ho letto e quindi non ho riconosciuto per questo motivo. E ora sono ancora più incrosito da questo libro. Che uscirà presto per l'Oscar Vault e non vedo l'ora. E questa fan art è meravigliosa. È stata fatta da Sleigh Mate. Che non conoscevo. Qui dice una fan art con Nari e Ndara. Appunto da City of Brass. Bellissima. Veramente molto molto bella. Passiamo poi al portachiavi Drink Me. Che è appunto ispirato da Dice nel Paese Meraviglia. Ma questo era alquanto sgamabile. È molto molto carino. È fatto da It's Baby Pierce. Che non conoscevo. Qui dice che manca una cosa. Ovvero una collana ispirata a Ice Dark Materials. Quindi la pussola d'oro. Che io non avevo. No ragazzi, non c'è. Non c'è nessuna collana ispirata a... La pussola d'oro. Vabbè. Ovviamente poi abbiamo il libro. Heaven Fall di Sarah Holland. Che è il primo libro di una serie. E non lo so. Se non è interessante a questo punto la trama. Non mi ero mai concentrato. Cioè sembra carino. Non so poi effettivamente. Sinceramente come potrebbe... Ah, c'è anche una... Un segnalibro. Vedoro sempre. Mi piacciono un sacco quando ci sono i libri. Quindi il libro. Per concludere le mie adoratissime monetine. Questa volta ispirate appunto a Cardan e Jude di The Cruel Prince. Io le adoro sempre queste monete. E spero che ci siano per sempre. Perché mi piacciono un sacco. E questo era quanto? Queste erano tutte le cose della Illumicrate di marzo. A parte la collana della bustola d'oro. Che purtroppo non c'era. Quindi poi me la andrò a vedere magari su Instagram. Se qualcuno ha messo qualche foto. Io spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Sotto vi lascio il profilo Instagram e il sito di Illumicrate. Se siete interessati all'acquisto di qualche box. Sono sempre meravigliose. Io le amo follemente. Credo che sia una delle migliori box di libri per ora in circolazione. Quindi questo è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!